Lunedì sera si sono svolte le trattative tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo governo e ad oggi sembrano essersi definitivamente sbloccate. Il leader politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha infatti annunciato di rinunciare al ruolo di vicepresidente del Consiglio, accettando la proposta del PD che aveva offerto di rinunciare a sua volta. In precedenza, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, aveva detto di voler sciogliere la riserva, accettando formalmente l'incarico di guidare il nuovo governo entro mercoledì. Con ogni probabilità, quindi, questa settimana avremo un nuovo governo oppure, ipotesi a questo punto più improbabile, sapremo se ci saranno elezioni anticipate questo autunno. Da nominare anche i nuovi ministri, probabile la riconferma del ministro Costa a tal proposito, ad esprimersi è il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Io penso che quando c'è qualcuno che lavora bene, quando c'è qualcuno che ha fatto e ha portato avanti un ruolo istituzionale delicato come quello del Ministero dell'Ambiente e riconosciuto da tutti il lavoro eccellente che ha fatto il ministro Costa, non lo dico soltanto io che ho avuto la possibilità, la fortuna e anche l'onore di poter interagire con una persona illuminata e che ha una visione di un ambientalismo moderno e innovativo. Ma oggi ci sono tante persone che riconoscono il lavoro del ministro Costa, allora io mi pongo una domanda, noi nel nostro paese, in Italia, non può essere sempre quel paese che le persone brave vengono poi messe da parte, che si parla di merito nei vari talk show televisivi, poi quando bisogna applicare quel merito quelle persone vengono cancellate. Ecco io dico, esiste una meritocrazia, esiste un riconoscimento del lavoro serio che le persone fanno, se esiste tutto questo io penso che il ministro Costa debba poter continuare il lavoro che ha fatto in modo eccellente fino ad oggi, ecco questa è la mia semplice valutazione, poi per carità possono essere fatte tutte le valutazioni del mondo, ma io penso che oggi in Italia dobbiamo essere un po' più conseguenziali alle cose che diciamo e questo vale per tutte, in tutte le categorie, laddove ci sono delle persone brave il merito deve diventare un merito reale e quel merito va non solo incentivato, ma va premiato, ecco questa è la vera meritocrazia, altrimenti l'Italia continua ad essere il paese che quando sei troppo bravo non vai più bene, allora dobbiamo mettere un limite alle persone brave per far spazio a quei mediocri, a quell'alleanza di mediocri che altrimenti viene troppo evidenziata, ecco questo è un grande tema, l'alleanza della mediocrità in questo paese ha determinato danni enormi, disastri enormi e continua a farlo, la verità è che purtroppo i mediocri sono in maggioranza tante volte in alcuni luoghi e quei mediocri tendono ad abbassare il livello per non fare evidenziare appunto quella mediocrità danneggiando chi invece fa delle cose buone, ecco io penso che questo paese si deve liberare in modo definitivo di questa visione che è una visione che distrugge e non costruisce, è una visione che ci fa regredire e non ci fa progredire, è una visione che ci allontana dall'Europa, questo ci allontana dall'Europa, non tante altre cose che magari sentiamo quotidianamente, ci allontana dall'Europa questa visione che non crea meritocrazia vera.